Signore Gesù Cristo, Maestro della vita, oggi prigioniero della tomba, con la Tua risurrezione ci insegni che la morte, il peccato, il falimento e la sofferenza non avranno mai l'ultima parola, che la gloria della Tua risurrezione risplenda nelle nostre vite e in tutto ciò che faremo. Proclamiamo che tutto ciò che era morto nella nostra vita risorgerà con Te, nel potente nome di Gesù Cristo. Amen.